Domenica 12 giugno dalle 7 alle 23 si vota per 5 referendum relativi all'abrogazione di norme in materia di Incandidabilità e di vieti di ricoprire cariche elettive di governo a carico di chi abbia riportato condanne per delitti non colposi Misure cautelari limitative della libertà personale Separazione delle funzioni di pubblico ministero e giudice Procedure di valutazione dei magistrati Modalità di presentazione delle candidature dei magistrati per l'elezione al Consiglio Superiore della Magistratura Il testo integrale dei quesiti è disponibile su www.interno.it Chi vuole che le norme oggetto di ciascuno dei quesiti siano abrogate deve tracciare un segno sul riquadro Sì Chi invece intende mantenere in vigore tali norme deve tracciare un segno sul riquadro No Affinché ciascun referendum sia valido è necessario che almeno il 50% più uno degli eventi diritto partecipi alla votazione Per gli elettori affetti da disabilità e per i malati intrasportabili le modalità di voto sono regolate da norme specifiche che gli uffici comunali possono illustrare Votano tutti i cittadini maggiorenni presentando un documento di identità e la tessera elettorale